C'era l'autista italiano che guidava da 23 giorni consecutivi senza fermarsi per i riposi settimanali o i quattro autobus, tre comunitari ed uno extracomunitario, che stavano effettuando un cabotaggio sul territorio italiano anziché un servizio occasionale internazionale di trasporto persone, fino a chi il pullman turistico lo guidava pur senza avere un contratto. È emerso di tutto, dai controlli a campione sugli autobus turistici effettuati al tronchetto dalla Polizia Locale di Venezia. Schede e tachigrafiche non aggiornate o diverse da quella rilasciata dallo stato di residenza, mancati pagamenti per l'accesso alla ZTL turistica ed altro. Un'attività di controllo molto importante per quanto riguarda la prevenzione sulla sicurezza stradale da parte dei nostri agenti, soprattutto in questo periodo dove ci sono molte scolaresche che vanno in gita e usano i bus turistici per recarsi nel nostro territorio. All'attività di controllo sulla sicurezza stradale compiuta dagli agenti sul territorio, da marzo si è aggiunta anche la verifica da remoto tramite il varco elettronico installato al tronchetto per la rilevazione dei transiti non autorizzati all'interno della zona a traffico limitato agli autobus del comune di Venezia. All'autista che non riposava da 23 giorni è stata immediatamente ritirata la patente. In cambio ha ricevuto una multa da 1.313 euro. Gli è stato anche imposto il recupero dei riposi non goduti per un totale di quasi sei giorni di interruzione lavorativa.